Si aggiorna la dotazione tecnologica sulle vetture del car sharing. Con il nuovo sistema di bordo è ora possibile segnalare i danni della carrozzeria. Selezionando il tasto danni compare questa maschera. Qui sono identificate otto posizioni sulla carrozzeria del veicolo. È possibile indicare il danno cliccando sul quadratino o sull'area che rispecchia l'anomalia del veicolo. Si possono inserire anche più segnalazioni. Una volta selezionati gli eventuali danneggiamenti si preme su conferma per procedere oppure su annulla se si decide di non segnalare alcun danno. In caso siano stati segnalati i danni verrà richiesta una conferma su questa maschera.